A soli 17 anni tenta di fare la spesa senza pagare ma viene scoperto e denunciato. È accaduto a Fontaniva dove il giovane è entrato con il carrello in un supermercato, ha preso dagli scaffali merce per circa 100 euro e poi ha cercato di oltrepassare la zona delle casse senza pagare. È stato però notato da alcuni addetti del negozio che sono intervenuti e l'hanno bloccato immediatamente sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Cittadella che hanno identificato e denunciato per furto nonostante la giovanissima età, il 17enne. Nel frattempo la merce è stata restituita al negozio.